buongiorno ragazzi e bentornati sul canale intanto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi se non vi iscrivete chi se ne frega ci guardiamo dopo comunque buongiorno siamo qui perché a distanza di circa un anno un anno e qualche mese volevo parlarvi del mio fantastico riscaldatore cinese o cinebasto o o o it or diesel come lo dicono i tedeschi quel coso qui d'accordo il mio fantastico riscaldatore cinese ricordiamo l'ho pagato 117 euro e dopo un anno e qualche mese un anno un paio di mesi di utilizzo mi sento in diritto barra in dovere di poter dire qualcosa allora prima cosa perché non l'ho montato prima punto uno seconda cosa perché non l'ho montato prima terza cosa è veramente tanta roba allora il nostro riscaldatore cinese alla distanza di oltre un anno non ha mai creato problemi ho sostituito io la candeletta di accensione comprandone due perché secondo me è una di quelle cose da avere in camper come ricambio la candeletta l'ho pagata 15 euro se non vado errato di accensione perché una di quelle cose che si può consumare e se si consuma barra guasta il nostro riscaldatore non parte e magari ci lascia il freddo quindi è quel l'accessorino che non è sbagliato come ricambio si svita con una chiave 12 aperta quindi è una manutenzione veramente ordinaria allora oggi io posso dirvi un paio di cose il riscaldatore secondo me a gasolio è fantastico per uno il tipo di calore che produce è un calore molto valido ben umidificato e si spande bene per tutta la cellula io ricordatevi ho solo numero due bocchette di estrazione del calore una qui laterale una qui davanti nei piedi queste due bocchette mi permettono di avere l'intero camper completamente riscaldato cabina compresa perché la mia non è divisa qual è l'unica zona che rimane fredda il cesso il cesso è se durante la notte voi non fate semplicemente attenzione questo cioè questo qua basta dovete ricordarvi di fare questo cioè socchiudere la porta del bagno di qualche centimetro se non avete portato una canalizzazione perché basta socchiudere questo perché il bagno si riscaldi se non lo fate scendete dalla mansarda che state benissimo entrate in bagno arriva un cazzato da un pinguino secco che non non ve lo scordate più capito però sono quelle cose che fate una volta la cazzata non la fai la seconda perché te lo ricordi parliamo di consumi i consumi sono direttamente proporzionali al vostro utilizzo e alla potenza del riscaldatore nel mio caso sapete il mio riscaldatore ho optato per la manettina veramente proprio base on off e rigo per i miei motivi all'oggi sono ancora contento della scelta fatta moltissimo ci sono tutti i vari display se optate per i display da utilizzare vi consiglio di cercare il display che ha la cornice di colore blu perché è quello che è meglio riuscito e ha più funzionalità rispetto agli altri si può addirittura andare a modificare la frequenza della pompa e da l'altimetro a proposito dell'altimetro vi dico una cosa molti vi dicono che il riscaldatore con questo tipo di comando ha dei problemi alle alte diciamo altitudini perché non ha di fatto integrato l'altimetro cosa che invece il il display blu ha premessa tutti i display sono compatibili possono essere sostituiti cioè il riscaldatore è sempre uno i display possono essere intercambiati quindi nulla vi vieta di comprare quello a manetta e volendo comprate il display a parte glielo collegate sempre nel solito tre spinotti perché è il computerino dentro il display che ha le informazioni io posso dirvi però che il mio riscaldatore non ha mai avuto problemi a qualunque altitudine compresa 2200 metri sul passo del piccolo san bernardo io ho fatto on lui che eravamo a 2200 metri niente ha fregato niente funzionato benissimo consumi allora consumi io posso dirvi questo se il riscaldatore sta tra io ho dieci tacche per il riscaldamento io sto entro le prime tre ok le prime tre tacche che in un periodo come questo quindi diciamo con otto gradi esterni 7 8 gradi esterni io lo tenevo tra i due e i tre il mio consumo per una notte è stato di meno di mezzo litro 0,5 litri se invece comincia a scendere la temperatura io non sono mai arrivato oltre la quinta sesta tacca mai ok però diciamo che già a 5 arriviamo a consumare per un'intera notte un litrino un litro di gasolio ci va via perfetto altra cosa importante questo ve lo dovete ricordare se avete già il riscaldatore da un po come me non ve lo dice nessuno non è scritto da nessuna parte io l'ho trovato facendo un po di voli pindarici inerente alla manutenzione quando voi avete il vostro riscaldatore ed è fermo da tutta l'estate quindi comincia il periodo invernale lo dovete accendere una premura che dovete avere questa qua accenderlo la prima volta al massimo della potenza ok per mezz'ora questo aiuta per pulire la camera di combustione passata la prima mezz'ora se non volete cuocervi due pizze abbassate chiaramente alla temperatura che meglio preferite ora io spero di avervi detto tutto per quanto riguarda il riscaldatore all'interno del camper una piccola nota che io vi faccio intanto mi prendo anche le chiavi allora io come sapete ho deciso di montare il riscaldatore non direttamente collegato al serbatoio del gasolio per i miei motivi cosa che voi potete fare tranquillamente cioè decidere di mantenere una tannica esterna piuttosto che farlo andare a pescare direttamente dal serbatoio del carburante scelta vostra i ragazzi non entro nel merito io ho preferito avere un serbatoio separato alla fine dopo un pochino di aggiustamenti ho optato per un serbatoio di tipo nautico sono andato a scomodare la nautica cercando un serbatoio di nome ulc giuro si chiama veramente così ulc di 12 litri è lo stesso serbatoio che viene montato nei gommoni omologato rina quindi insomma un po di sicurezza direi che lì in quel caso c'è con 12 litri posso dirvi che io nelle peggiori condizioni cioè vuol dire una temperatura esterna fissa di meno 5 meno 8 stai comodo per 3 4 notti senza doverlo riempire quindi comunque sia veramente una buona autonomia vi porto giù a vederlo così vi faccio un attimino capire come lo ha installato e che tipo di dimensioni ha per prima cosa vi dico che è stato installato nel gavone esterno ed eccolo qui questo è il mio adesso faccio sempre l'appoggio capone questo è il mio serbatoio esterno omologato rina quindi qui c'è il mio pescante del diciamo del tubo di alimentazione e qui ho il tappo di carico dove vedete che io gli ho inserito questo come tubo di sfiato quindi io non faccio nient'altro che quando mi fermo diciamo al distributore svitare questo e riempire il mio la mia tannica di gasolio è stata riempita per questo fine settimana e ancora qui per darvi un riferimento ci stanno comodi comodi 12 litri di carburante mi danno veramente un'autonomia pazzesca terminiamo quindi il nostro discorso rimetto a posto le chiavi allora riscaldatore a gasolio lo tornerei a montare mi sembra di avervi già risposto sì manutenzione guasti non ne ho avuti è già con me da più di un anno un anno qualche mese pagato 117 euro lo ricordo e assolve perfettamente alle mie funzioni il consumo energetico è veramente conciliabile vado a spiegarmi il riscaldatore mi assorbe più o meno circa 10 ampere per un 15 minuti nel momento dell'accensione e nel momento dello spegnimento perché chiaramente mette in moto tutte le ventole io in quel frangente se non voglio andare a pescare dalla mia risorsa energetica mi è sufficiente accendere il camper per quei 10 minuti in modo che l'alternatore copra il consumo ma se ho la batteria carica non sono 10 ampere che mi fanno la differenza una volta che lui ha scaldato assesta il suo assorbimento sotto l'ampere 0 5 0 8 a seconda della ventilazione quindi comunque sia è una cosa veramente bassa e ben sostenibile l'ultima cosa che mi sento di dirvi parliamo di costi io l'ho pagato 117 euro non sto a sindacare sul fatto che esistano prodotti certificazioni tutto il resto da dove viene dalla cina sono sempre stessi produttori discorsi ragazzi ormai fatti ritriti io penso semplicemente sapete che io ragiono molto nell'ambito low cost ma io ho speso 117 euro per un anno è già andato bene diciamo che l'anno prossimo tocco un attimo si rompe perfetto ma se io ne ricompro un altro da 117 euro che problemi ho d'accordo se per assurdo avrei potuto comprarne due spesa a 240 euro di cui uno montato e uno di riserva dietro nel gavone non si sa mai guarda si rompe qualcosa quattro viti smonto tutto il blocco ok per dirti quindi mi sembra secondo me un ottimo acquisto è un'ottima cosa da avere in camper che sia il riscaldamento primario o che sia un riscaldamento di emergenza non voglio usare la truma voglio usare riscaldatore oppure tengo riscaldatore la truma la tengo di emergenza è comunque un'ottima soluzione a basso costo spero ragazzi che possano esservi stati utili queste informazioni dopo un anno e qualche mese di utilizzo dal riscaldatore del resto come al solito vi dico iscrivetevi al canale e alla prossima